Ecco, ciao Giorgio, allora anche oggi 9 di dicembre, ci vediamo anche oggi, punto, come una grossa consuetudine, vorrei solo dirti che stamattina in telegiornale ho sentito un pezzo, meglio, ho fatto vedere un pezzo di discorsi che ha fatto Renzi e il giovane del PD, a quelli che ancora credono che gli asini volano, e come dice spero che la giustizia, no, ma ha detto spero che la giustizia gli schia presto, deve pulire subito i responsabili, no, sembra quasi che lui non sapesse nulla, capito? Mentre lui lo sa benissimo, e sa benissimo che chi ha preso, chi hanno preso, sono solo dei pesci piccoli, questo è lo scandalo di Roma, è solo di Roma, che sono poi i pesci piccoli. Hanno preso i pesci piccoli, perché attualmente in queste operazioni, guarda lo dico anche per i nostri amici, ho fatto circolare proprio adesso una mia considerazione e ti invito a dargli un'occhiata, perché l'ho mandata su Accademia della Libertà e su Alba Mediterranea e anche ad altri amici, partendo dalle considerazioni che ha fatto il nostro amico Paolo Ferraro, il quale ha messo in evidenza una continua e strisciante congiura che serpeggia per Italia dagli anni 40 in poi. Io ho appunto aggiunto alcuni elementi, perché sembrerebbe, sentendo o leggendo quello che scrive lui, che tutte queste congiure si siano concentrate in un ristretto ambito di tempo. Non è vero. È una storia di classi dirigenti a base criminale che sono quelli che comandano l'Italia dal 43 in poi. Esattamente. Un'ampia partecipazione azionaria del Vaticano, l'ho detto prima. Molto azionaria, la palla padrone. Per cui, come dicevo, ieri ad esempio il Papa, alla presenza dell'attuale sindaco di Roma, espressione tipica di questa mentalità e di questo atteggiamento culturale del PD e di altri compari che si sono asserviti al potere finanziario mondialista dal 1943 in poi, se non da prima, è una congrega che comunque si definisce tra di loro, si accusano formalisticamente tra di loro, chi va in galera è soltanto il pesce più piccolo, se ci va, se ci va. Ieri, e lo dico per i nostri amici, c'è stato un programma su Rete4 in cui si vedeva chiaramente che dietro alle Rete4 da un programma gestito da un noto giornalista che, devo dire, è molto in gamba per gestire la questione. Ma ci vede bene perché dietro... Sei parlato di chi? Si chiama di... Ok, aspetta... Non me lo ricordo, non me ne frega niente. Ho capito chi sta dicendo. Quello che mi interessa è denunciare i fatti. Allora, dietro è roboanti parole di denuncia di ciò che accadeva e continua a accadere a Roma, perché accadeva ieri, continua a accadere anche oggi, non è che sia cambiato. Cioè, quando tu hai un'impostazione ideologica, culturale e religiosa, basata sul furto, non è che smetti da un giorno all'altro, no? Eh, direi. Perché quando tu imposti una religione sul bacio del cordone, e se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone, non è che cambi, è una mentalità. Eh, sì, intanto... Vuoi andare in pareviso? Dammi soldi. Puoi che dica una messa per la tua mamma che è morta l'altro ieri, paga un contributo. Allora, chi è abituato a vendere l'aldilà, ti immagini con quale superficialità vende e compra l'aldiquà? Oh, altro che! Eh, ci puoi contare su questo punto, no? Ma, in effetti, quello che dice è vero, no? Perché, vedi, qui, purtroppo, il problema è questo, caro Giorgio, che la massa che ignora queste cose, che si beve le parole di Renzi, fa male anche a quelli che, soprattutto a quelli che sono consapevoli che la situazione è opposta. Ma, beh, ma cosa vuoi? Noi, Renzi, l'abbiamo già definito... Non so, però, ecco, vuol dire questo... Renzi, è un burattino qualsiasi, un personaggio da quattro soldi, inventato e messo lì, perché doveva servire per coprire certe cose. Allora, per coprire nel senso che doveva richiamare l'attenzione dei coglioni che hanno bisogno, ogni volta che qualcuno gli metta il campanellino sotto il naso, appiccicato ai piedi del culo, oltretutto. Più o meno, più o meno, no, me ne fate vero. Ma io, è vero quello che dici, perché purtroppo è così... Il ruolo del sesso, attento, eh, il ruolo del sesso, in queste squallide operazioni di carattere politico, è evidentissimo. Quando questi, e se la prendono con Berlusconi, perché è un individuo che piace giocare con le ragazzine, e beh, beh, ma le ragazzine sono utili e funzionali, io... Ora, insomma, no, dai, vabbè, ma che figlio. Ma cosa fanno queste ragazzine, io... Ma scusa, se è vero quello che piazza le donne, non vedo quello scandalo, cioè... No, ma lo scandalo non è questo, e che cosa fanno le ragazzine? Tant'è, gli piace. Che vanno con Berlusconi, eh? Beh, era un motivo. Sì, ma le ragazzine che vanno con Berlusconi, vanno probabilmente con altri. Ah, ecco. E riferiscono al Berlusconi, che cosa dicono gli altri, in momenti particolari, a di particolare tensione emotiva, va bene? Eh, sì, perché è un po' una specie di salon kitty post-litteram. Oh, non è una specie di salon kitty, è sempre stato utilizzato, guarda la storia di Roma, guardi gli imprezzi sentimentali dell'epoca, ad esempio, del secondo triunvirato. Io la gente qui, francamente, gli devo dire, andatevi a leggere la storia del secondo triunvirato. Bravo, Giorgio. E andate a vedere questi intrecci incredibili, eh? Eh, lo credo, è anche gli intrecci che dovremmo raccontare un giorno, caro Giorgio, perché purtroppo pochi ignorano che il sesso, comunque, in certe fasi della politica... Propellente eccezionale, no? Che lo puoi inibire. No, no, non puoi. Allora, a me mi viene in mente una cosa più importantissima. Si pensavo proprio in questi giorni, ma la ferocia con cui gli investigatori chiesastici infierivano sulle loro vittime, no? Questi terribili inquisitori erano tutti dei sadici sessuali che godevano sessualmente. Ah, hai capito. Nel vedere torturate le loro vittime. Beh, beh, sicuramente c'era anche di voi. Non si spiegherebbe il contrario, non si spiegherebbe questi comportamenti. La ricerca ossessiva della vittima da torturare per poter godere, siccome ovviamente erano sadici, contemporaneamente erano stati costretti dalla loro religione, in ogni caso a inibire quelle loro pulsioni che probabilmente si sarebbero tranquillamente scaricate in un rapporto matrimoniale normale, scaricavano tutto torturando le persone. Questo mi ricorda, mi fa venire in mente quello che è successo in questi giorni, quella terribile tragedia di quel povero bambino. Ah, mamma mia, sapere... Oh, allora, anche questo mi ha portato ad una riflessione. Se noi guardiamo quel bambino, è una faccia mite di una vittima predestinata. È un bambino che o lo sacrificava la madre o chi per lei, o l'avrebbe sacrificato qualche di un altro. Perché era una cosa in questa. Per me lasciar perdere, esatto. Carichi sul più debole, concettualmente, psicologicamente. No, ma qui siamo a livelli proprio... non bestiali, no, perché guardia le bestie. Le bestie non fanno mai queste cose. Ma no, 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 no. È l'uomo che non è una bestia. Offendiamo gli animali veri. L'uomo a volte, ti giuro, supera le atrocità più terribili. E ce l'insegnano i preti. In ogni caso, volevo fare un'ulteriore considerazione. Noi viviamo in un'epoca dominata dalla cultura del buonismo, dell'afflato buonistico, del vogliamoci bene tutti quanti. Bene, è la cultura che maggiormente cova all'interno fenomeni di sadismo. Perché mai nella storia la violenza sadica si è scaricata, come in questa epoca, contro le popolazioni, ad esempio, inermi. Per definizione, inermi. Basta vedere le stragi che gli ebrei fanno nei confronti dei palestinesi. Le stragi che gli americani, ebrei, o meno ebrei, hanno fatto e continuano a fare in Iraq e in tutte quelle popolazioni. Fra stragi del tutto gratuite, e tanto gratuite quanto più queste popolazioni sono inermi per difendersi da queste aggressioni. La mia conclusione è abbastanza semplice, che cioè, in una società in cui vige una concezione di carattere militaresco, certe cose, proprio per il concetto di onore, non verrebbero praticate. Perché il concetto di onore, il Dio di onore, vieta a colui che ha una mentalità di carattere militare, eroico, di infierire sul più debole. È vero, questo sì. Infatti, in Italia manca totalmente questa cultura. E perché c'è la cultura pretesca, del prete? Manca totalmente. Da una parte ti dà la benedizione, dall'altra ti frega i soldi, o se di capita te la mette anche in culo. È la mentalità del preto. No, diciamo che gli inquisitori non erano frati, erano tutt'altro che frati. Come non erano frati, scuro? I inquisitori, i frati non hanno fatto, cioè, i frati no, i preti, i vecchi. I inquisitori principi erano benedettini, i benedettini nascono come frati. Ah, l'editura, erano benedettini. Eh certo, la maggior parte erano benedettini. Ah, che poi erano quelli che hanno copiato le opere dei classici antichi, che poi ci hanno trovato fino a noi. Beh, lì, ma un conto era quello che succedeva dentro i conventi, dove ovviamente l'iparico... Diciamo che il film Il nome della rosa che è stato tratto appunto... Beh, ma non erano benedettini, scusa. Eh, no, quelli sì, quel belì è... Eh, beh, ma allora... Appunto di Umberto Eco... Quella violenza nei confronti dei suoi guaci lì di... Come si chiamava? Eh, se non ricordo. Dei suoi guaci di quell'eretico, no? Sì, sì, sì. Chiaramente, no? Non erano loro. Erano loro, ma il bello è questo, che loro erano anche quelli che erano adibiti alla falsificazione dei classici, perché... Infatti, molti ne hanno approfittato. Il fatto è che questi trascrivessero all'interno dei conventi i testi classici, custoditi molto gelosamente affinché potessero essere trascritti come gli girava loro, però anche lì furono fregati dal destino perché agli arabi, agli arabi islamici, tutta la cultura classica ci è ritornata a noi, eh? Beh, certo. E poi è molto importante. Quindi la loro falsificazione, che è stata ampiamente messa in evidenza, proprio durante il rinascimento italiano, 1400-1500, ad opera anche di grandi intellettuali che venivano dall'area bizantina, come Giorgio Gemisto Pletone e queste persone qui, i quali un bel momento ci hanno portato le cose come stavano, per cui la falsificazione non hanno più potuto portare avanti, se no tutta sta roba qua, tutta la grande cultura classica rimaneva nascosta negli scantinati dei conventi. Guardati la storia delle varie scoperte che sono state avvenute a fino a 800 e fino a metà del 900 nei conventi, dove finalmente, grazie anche allo sviluppo della cultura classica, storica e soprattutto di carattere archeologico e tutti i... Ma addirittura, Giorgio, si parla addirittura anche di archeologia proibita, cioè per esempio certi siti non ci fanno ne lavorare gli archeologi, gli sono proibiti, ma questo è un fatto vero, ma per esempio... Ma come è un fatto vero? Ma scusa, la Domus Aurea di Nerone hanno incominciato a lavorarci adesso da duemila anni. Sì, sì. Sono dei tesori immensi là dentro. No, ma anche perché non vogliono che da questi tesori, da queste opere d'arte possa trasferire un messaggio che indica qualcos'altro, che il potere attuale è chiaro, ma in effetti ti dico una cosa che penso tu lo sappia, in sostanza sai che in Bosnia hanno scoperto delle piramidi e queste piramidi risalirebbero addirittura a 30.000 anni fa. Sì, infatti, infatti. E allora su pressione di non so chi il governo bosnieco non autorizza agli archeologi di andare a fondo a queste cose. Infatti. No, no, la dice lunga. In effetti addirittura anche nel Comasco o meglio in provincia di Lecco hanno scoperto una piramide e è stata fatta vedere anche nei servizi di Canale 5, Italia 1 che anche lì però hanno scoperto hanno purato che esiste una piramide sempre dell'epoca ma non la fanno non la fanno ma questi maniaci ma questi maniaci del mito del progresso ci devono spiegare anche come abbiano costruito le piramidi egiziane perché non è tanto quelle della Bordia ma con l'idea egiziana si devono spiegare questo questi signori continuano a dirci che gli egiziani hanno fatto tutto loro cioè in sostanza questi egiziani andavano a prendere i sassi a non so quanti chiodi di distanza sassi che pesavano più nell'altro poi si ricaricavano sulle spalle no? no no sul cifolo no ma dico io ma qui siamo per ribambimenti io so che un proprio un archivago indipendente americano l'ha cantata chiara su questo punto e allora in televisione volevano censorarlo volevano mi ricordo che era in presenza di quel ormai di colui che ha preso come si dice di quell'egiziano quello egiziano che da cui governo ai tempi di Bumaracch è stato incaricato di diciamo così la sovrintendenza dei diciamo dei beni culturali egiziani un certo sì che è apparso anche in Italia molte volte nella tribù italiana anche con Voyager e adesso ricordo come si chiama questo tipo qua ha rischiato anche il linciaggio durante le ultime rivoluzioni diciamo così programmati in Egitto per instaurare la dittatura dei fratelli musulmani che poi è andata di straverso per fortuna grazie al generale Assisi e anche penso ad altri comunque sto dicendo in effetti si parla comunque di archeologia proibita e c'è più di un caso molti casi che ti fanno debitare nel senso che l'umanità nascondono una storia nostra che è stata tutt'altra di quella che ci ha raccontato per esempio il caso della fresco di Michelangelo la creazione e quella è va bene lì è una questione di maturità culturale perché il segnale che viene lanciato da Michelangelo è molto chiaro il segnale che viene lanciato da Michelangelo che è appunto questo una vera comunicazione occulta e che nessuno ha capito se non ci fosse stato mi pare un ingegnere inglese che qualche decennio fa se ne è reso conto questo per dire cosa significa la capacità di comprensione che ha la razza umana ma infatti Michelangelo ha capito tutto io stesso non avrei mai pensato e perché non guardavo quel disegno come avrei dovuto guardarlo cioè con mente sgombra da convenzioni formali hai ragione caro Giorgio in effetti mi sembra che anche Leonardo da Vinci era conoscenza di certe cose accidenti ma che scherzi e poi Giorgio io vorrei dare una spiegazione allora tu sai che le civiltà classiche erano volute nel pensiero intellettuale filosofico a maniera incredibile a qualsiasi livello esatto ma però a livello meccanico scientifico erano una catastrofe che per sé no assolutamente scusa per sé allora quando mi faranno io ricordo alcuni alcuni programmi molto belli che ho visto in televisione negli ultimi tempi li ho persi di vista ma erano tutti uno più interessante dell'altro in ogni caso quando hanno fatto quell'esperimento per vedere in quanto tempo ci mettevano a costruire un ponte che i romani costruivano in pochissimo lo so e l'ho visto anch'io pure con la televisione infatti ha provato allora in sostanza si trattava del ponte che i romani hanno fatto sul Reno quando Giulio Cesare ha accusato la Gallia e si è avvicinato anzi che anche mi fa su queste tecniche ingegneristiche queste tecniche ingegneristiche è vero però quello che dico io tu pensa alla meccanica in sé se vogliamo anche all'elettronica che i romani ignoravano come ignoravano tutti quei grandi popoli non è vero ti invito alla lettura ma scusa tu guarda l'armamento guarda l'armamento per avere l'armamento di fuoco devi aspettare la fine del 1300 ti invito alla lettura della lista pianeta planete di Pauwels e Berger che è stata pubblicata fino agli anni dal 64 fino al mi pare al 75 se ne trovi in qualche bancarella dovresti comprarla ti invito alla lettura del libro il mattino dei maghi le mattine del magicien dove si fa vedere in maniera molto chiara che certe conoscenze erano già della preistoria dove si parte il libro il mattino dei maghi parte dalla constatazione che avevano trovato una pila elettrica dei tempi di Sodoma e Gamorra quindi io direi sempre Sodoma e Camorra perché si presta di tutto ma non è caso no ma scusa ma perché vuoi sì ho capito ma questo anche io ho sentito questo fatto della pila dei tempi Sodoma e Gamorra però quello che voglio dire io tu pensa alle armi no l'uomo allora per avere la prima arma diciamo così da fuoco non più la lancia la freccia il giovellotto la spada devo aspettare alla fine del 300 con le più bombarde anzi il 400 poi dopo ti faccio subito un'obiezione ti faccio subito un'obiezione per noi per noi ma la polvere epirica era già stata da secoli inventata dai cinesi esatto che la nostra umana certe conoscenze già ce l'aveva sì sì ma ho capito ma infatti quello che voglio dire io la cosa che mi ha colpito nel pensare a questo fatto no cioè che nonostante che c'erano delle conoscenze di base infatti i cinesi erano i primi tra i primissimi a avere la polvere da sparo perché facevano un po' di artificio ma la cosa che io mi domando che non ci sia stato nessuno parliamo di insomma di qualche mille anni fa che abbia pensato che quella che poteva essere usata a scopo bellico è quello che mi sorprende c'è stato un oscurantismo di fondo che non a caso si è esplicato in quei terribili secoli del medioevo fino al rinascimento lì c'è stato il blocco totale chi si azzardava a uscire fuori da certe regole era bruciato vivo le streghe erano persone che conoscevano perfettamente i segreti della medicina naturale ah ecco e per cui non ci trovano fusi con le piante queste cose non si dovevano sapere e perché? i miei regolamentati dovevano applicare alla cieca le ricette di galeno laddove la stessa medicina militare romana che è all'origine di tutta la medicina di tutto e di sempre aveva degli scrittori se vuoi io le opere di tutti questi scrittori tutti i grandi medici dell'antichità romana erano tutti medici militari uno dice perché? perché sperimentavano sulle persone ferite esatto ma ero oggi ne spiegava niente anche oggi sì sì certo anche oggi i medici militari sanno tutto perché sperimentano tranquillamente sull'uomo ferito esatto e se muovi doveva morire capito? sì infatti infatti è vero questo è vero perché la ricerca è una ricerca allora lì c'è stato allora ti faccio presente un'altra cosa che è importantissima noi prendiamo sempre ad esempio persone come Alessandro Volta un creatore dell'energia elettrica esatto che l'ha creata realmente sì oppure Isacco Newton ora queste due persone che sono all'origine del pensiero scientifico della modernità erano ampe due degli alchimisti perché non avrebbero potuto creare le loro teorie e fare le loro creazioni se non avessero avuto intriso nel loro pensiero nella loro mentalità il fatto che anche la materia brutta cristallizzata era posseduta da una forza interna interiore Newton no con la teoria della gravità che cosa dice Newton attraverso la teoria della gravità dice che i corpi si attraggono o si respingono i corpi materiali cioè terrestri nel senso pieno del termine anche se sono astri si attraggono e si rispingono per una forza intrinseca legata alla loro stessa massa cioè all'aspetto più materiale della loro manifestazione no cioè la massa cioè il peso il peso brutto il peso passivo anche il peso passivo è in realtà frutto di una forza interna questo si chiama alchimia perché questo gli alchimisti volevano estrarre attraverso le loro operazioni che risalgono fin dai tempi no ma dei tempi di ermete trismegisto tant'è vero che la cultura alchimica è perfasa dell'ermetismo il simbolismo alchemico è il simbolismo ermetico ti voglio fare una domanda ti voglio fare una domanda pensando all'armi da fuoco quindi alle prime rudimentali bombarde dopo la metà del 300 eccetera eccetera ecco noi dobbiamo aspettare praticamente quasi quattro secoli veramente in fusili a retrocarica a ripetizione cioè ci ha messo quattro secoli l'umanità a sviluppare quello è un progresso tecnologico interno alla manifestazione stessa mentre la cosa importante che ti stavo dicendo è un'altra quando io parlo di Alessandro Volta parlo di un alchimista perché Alessandro Volta dice un'altra cosa aspetta e ce lo dimostra ce lo dimostra il fatto della diatriba che fu assai aspra travolta e Galbani Galbani sosteneva che l'energia elettrica che noi chiamiamo oggi elettrica all'epoca si chiamava energia sì no il sensolato non poteva che nascere dalla vita vivente tant'è vero che i suoi esperimenti li faceva sulle rane o su parti di rana Volta invece diceva che tale energia poteva essere estratta anche dalla materia bruta mettendo assieme corpi diversi sostanze diverse no? sì rame e quant'altro zinco rame quanto ti pare piombo quello che vuoi e lui lo metteva assieme e otteneva l'energia anche questo è alchimia perché l'alchimia si basa sul concetto che la natura soprattutto la natura minerale quella più pesante quella più materializzata contenesse all'interno una forza intrinseca che è uno spirito infatti è spirito ecco da dove nasce l'olismo la concezione olistica dell'universo della natura di quant'altro da cui è nata tutta la fisica postquantistica oltretutto no? sì l'ho capito bene interessante questo discorso che hai fatto allora io queste cose le dico per dire che il cosiddetto progresso tecnico è puramente proiezione di fattori marginali e superficiali ma non nella sostanza nella sostanza in pieno ottocento noi abbiamo perché è l'inizio dell'ottocento che abbiamo volta il quale ovviamente fu premiato da Napoleone che essendo un attore intelligente capiva quanto fosse importante la scoperta della Pia allora per dire no tutto questo filone perché da Newton a volta ci sono circa 150 anni eh certo tutto questo filone però è legato a concetti di base di cui io poi ti leggerò adesso strettamente correlati con la cultura neoplatonica e in quanto tale pitagorica ho capito infatti sto dicendo che Alessandro Volta che era non solo lo semplice scopritore diciamo di energia elettrica che venisse in pratica ma addirittura intuì anche il telefono perché disse che lui entro un breve termine e qui siamo all'inizio 800 avrebbe parlato da Como a Milano perché ma per forza una volta e lì è concetto io stai attento la scoperta della sincronicità no che è strettamente legata alla filosofia legata alla fisica post quantistica eh sì che è legata a sua volta a una concezione olografica dell'universo prevede appunto una comunicazione a distanza perché perché la distanza non esiste a questo punto e ciao è chiaro sì no bene ho capito bene bravo la natura è tutta compagnia in una visione panteistica non esiste la separazione tra il livello della divinità quello che vogliono i preti e il livello della materialità è tutt'uno lo spirito è dentro la materia bravo ecco perché hanno bruciato vivo Giordano Bruno perché aveva scritto queste cose ecco perché hanno cercato in tutti i modi di bruciare vivo Tommaso Campanella non ci sono riusciti perché questo era un furbastro e si faceva passare per matto ma queste sono le cose in effetti di Campanella abbiamo anche parlato di Tommaso Campanella in effetti e abbiamo fatto una bella trasmissione su questo personaggio il concetto di città del sole che cosa significa una città una città cioè una civitas esatto dove regna l'equilibrio naturale energetico perché pensare all'idea di città del sole significa pensare a una civitas cioè a una società dove è intrinseco il concetto della solarità ma che cosa è il sole? energia pura esatto identificato con la divinità ma anche i cristiani stessi hanno sempre identificato il dio con il sole tant'è vero che oggi nelle chiese cristiane quando si fa l'adorazione della divinità si adora in realtà lo stensorio ma lo stensorio altro non è che il sole e lo si fa al tramonto quando il sole tramonta diciamo anche Giorgio che tu sai benissimo che le religioni monoteiste comunque hanno un po' ritardato il pensiero altro che un po' ritardato scientifico dell'uomo perché tu pensa all'inizio delle civiltà islamiche all'inizio poi hanno prodotto anche loro poeti matematici poi a un certo punto si è bloccato non è andato più avanti oggi per esempio se noi dobbiamo andare a trovare un grande matematico arabo o poeta o scrittore dobbiamo rifarci proprio di parecchie secoli fa perché oggi avvicenna a vero è avvicenna questi sono i grano esatto esatto tanto è vero che una cosa del genere la disse tempo fa quando era ancora il presidente dell'Iran a Minesiade il quale disse una frase intelligente disse io sono un professore universitario e ogni cosa che è scoperta mi interessa ogni innovazione mi interessa esattamente questo è una persona che ha capito certe cose non avrebbe parlato così che poi l'innovazione la scoperta guarda caso fanno sempre timore e mettono un po' in allarme queste religioni che comunque condizionano sempre lo spirito umano eccetera basta pensare al dilemma che visse Alessandro perdono Guglielmo Marconi che pare che era in possesso di di un'arma si parla di ragionanza che cosa che poi per scrupolo religioso non vuole fare appunto ecco no questo appunto va detto per questo fatto vero eccetera mentre poi gli altri cioè gli altri quelli della parte alleata quando avevano scoperto un uomo le usavano e non avevano nessun scopo di coscienza più armi contenti avevano e più ne usavano basta vedere cosa hanno fatto con le bombe a sposforo con un'altra cosa chi non si arma è destinato a essere disarmato ah senza dubbio in effetti l'Italia oggi è un paese disarmato sotto tutela degli Stati Uniti che sono i veri padroni d'Italia e pertanto noi siamo un paese a sovranità zero dicosi zero è dimostrato dei fatti e come anche il giornalista esperto di queste cose Gianni Lannes che insomma su queste cose ha pagato anche la sua sopelle perché se uno vuole vedere cosa ha fatto Gianni Lannes sa cosa ha scoperto e poi si rende conto del perché Gianni Lannes ha detto l'Italia è un paese senza nessuna sovranità esattamente perché basta una minima telefonata del solito ambasciatore perché tutti ci mettono e si calicano le braghe vorrei darti una notizia Giorgio poco fa è arrivato un articolo dell'Ansa no scusa non dell'Ansa di Aurora in cui si parla a Turchia dei recenti sviluppi che la Turchia ha avuto in questi ultimi giorni nell'accettare di prendersi di far passare il substream appunto il gasdotto russo che poi dovrebbe dare il gas all'Europa e quindi in Turchia che si parla come la Turchia potrebbe cambiare campo beh in effetti la Turchia è una in questo momento è in una fase di come dire di orientamento e diciamo che loro più pensano più capiscono che i loro interessi non sono assolutamente né da Nato e né tantomeno in questa Europa sotto usura e senza sovranità è chiaro che i turchi vanno dall'altra parte ma questo mi pare ovvio ma inoltre voglio dirti le notizie che apparsa poco fa sul sito della tribù iraniana Press TV che il ministro degli esteri russo ha lanciato un durissimo monito agli occidentali e gli americani nel caso augurato che dovessero piazzare missili diciamo in Ucraina in altri paesi vicino incontro la Russia e se è alzato i toni beh significa che la minaccia insomma è da prendere in seguito di l'azione perché Putin in questi casi quando dice che non vuole scherzare non scherza in effetti in Georgia sei anni fa aggimentamente e non solo quindi come anche aggì dell'anno scorso del settembre l'anno scorso che non ha fatto invadere la Siria dalle truppe o meglio dalle forze NATO che erano già pronti a farlo se i russi si fossero decisamente non avessero detto di no certo esatto quindi questo va detto bene Giorgio per quanto riguarda la Turchia ripetendo quello che io più di una volta ho detto l'America è lontana ma la Russia è vicina va bene? ma a parte gli interessi a parte gli interessi vigenti e diciamolo pure il petrolio o il gas a parte a parte scontri Turchia Russia che hanno caratterizzato tutto l'Ottocento va bene? sì ripeto tutto l'Ottocento è parte del Novecento sta di fatto che oggi il quadro da questo punto di vista è cambiato per cui la Russia è vicina e la NATO è lontana ma ripeti vedi la Russia è vicina perché era un paese che prima della guerra con la Siria era in crescita poi dopo ha subito i contraccolpi però ci succede che lì sicuramente in seno al governo di Erdogan che comunque è un pessimo figuro a prescindere no fa gli interessi del suo paese sono interessi ambivalenti quelli della Turchia gestire la Turchia è obiettivamente difficile lo so ma voglio dire ricco la Siria comunque certe cose ha mancato proprio veramente di coerenza e oltre al resto ma si capisce che uno deve fare gli interessi al suo paese e qui siamo d'accordo ma nel caso di Erdogan mi permetti io lo disapprovo totalmente anche se ultimamente queste nuove prese posizioni da Turchia più che frutto suo secondo me sono frutti di altri che guardano bene e che dicono la Russia ci arriva qua qui allungiamo un braccio e possiamo prendere ciò che vogliamo dagli stati d'America e cosa possiamo prendere un tubo possiamo prendere che cosa guai debiti e delinquenza quindi è ovvio che i turchi questi ragionamenti li fanno perché comunque si è Erdogan anche se è quello che è ma è ben lontano da essere Renzi ciò si è spiegato no? perché ti ricordo che in Turchia le cose non sono facili no no capisco è un paese diverso in Turchia c'è stato un colpo di stato militare che poi ha portato all'impiccagione del capo del governo adesso io non ricordo il nome in questo testo qui se mi riusciva di vederlo è il ponte fra l'Europa e l'Asia è un ponte strategico è un paese importante e si trova un'alleanza nato ma attualmente la Turchia della nato ha solo un piede perché ha capito molte cose ma questo l'ha capito più che altro i suoi dirigenti o meglio non proprio Erdogan ma ben altri l'ha capito poi Erdogan vabbè ti ricordo ti ricordo che il fatto epocale non è non è la situazione attuale della Turchia ma il fatto che la Turchia come peraltro l'Iran dà frontiere dà paese di frontiera della nato si sono comunque spostati di 180 gradi chiaro? ora l'Iran fin dai tempi di Khomeini ha chiuso nella sua funzione di guardiano della nato e lo sta facendo anche la Turchia che non potrebbe fare diversamente capito? ma su Khomeini c'è tutta una storia perché questo Khomeini è stato allevato comunque dalla CIA dai francesi poi sono andati in Iran e poi le cose sono cambiate è ovvio che lui non ha più potuto controllare certe cose quindi l'Iran è stato quello che è stato ma l'Iran attualmente non è più comunista è qualcosa di diverso sì ma resta sempre in quella posizione sì sì certo resta sempre in quella posizione cioè praticamente anche il fatto che dalla Russia di Gorbachev si sia passati alla Russia di Putin è indicativo del fatto che qualsiasi tentativo da parte del potere diciamo così economico finanziario ebraico quello di no di interferire sulla Russia no è venuto a tramontare perché per forza intrinseca la Russia è destinata ad essere indipendente direi di sì tanto è vero che si è fatto il suo cordone difensivo che parte dalla Siria e che prende anche parte la Turchia adesso che arriva fino a quella del nord quindi attraverso l'Iran attraverso il Pakistan l'India l'Urgina e poi te ne dico un altro così come il corpo umano qualora riesca a superare una malattia né qualsiasi corpo vivente qualora riesca a superare qualsiasi malattia né risulta rinforzato non solo rinforzato fisicamente ma pronto per stravincere attraverso quelli che noi chiamiamo gli anticorpi qualsiasi altra aggressione così è la Russia la Russia ha generato quel momento di grande depressione culturale e politica provocata sempre da loro signori perché erano loro signori quelli che interferivano quindi da Gorbaciov non a caso Gorbaciov ce lo troviamo sempre nei grandi consensi internazionali gli hanno dato il premio Nobel perché l'hanno pagato col premio Nobel di tutti i tradimenti che ha fatto e il sin peggio ancora e quindi questo è la malattia la Russia l'ha superata e oggi ha una tale quantità di anticorpi diffusi in tutto il territorio per cui loro non potranno fare niente potranno tentare di assediarli ma non possono fare nient'altro infatti non posso naturalmente anche perché la Russia non è una potenza secondo me è una primissima potenza mondiale ma poi è sempre stato Gorbaciov non gli darei da traditore non darei proprio così diciamo che è stato giocato bene ma comunque Gorbaciov attualmente è assolutamente a foro della politica di Putin ha detto nel ventennale del muro di Berlino sì so so che lui nel 25esimo scusa l'anniversario lui ha fatto un discorso a favore di Putin nettamente esattamente c'ha ragione certo ha perfettamente ragione e ha capito ha capito sì perché è meraviglia che Gorbaciov l'avesse capito e devo averlo capito è un uomo con un grande fiuto politico il fatto di Putin Putin deve fare ancora uno sforzo deve fare due cose liberarsi degli oligarchi che ancora sono in Russia che comunque hanno sì ma sono e poi nazionalizzare la banca russa il secondo passo sarà sicuramente quello certamente no perché questa è la direzione che poi dovrà per forza seguire la Russia perché adesso la Russia l'ultimo discorso di Putin del 4 dicembre di questo mese ovviamente è un discorso che indica alla Russia di far da sé quindi un discorso che invita all'autarchia e per la Russia l'intera autarchia non è difficile con tutte le mani le prime che ha un culto era l'autarchia italiana laddove la spinta autarchica italiana per affrontare le pressioni e i ricatti del mondo anglosassone era una spinta soprattutto alla grande capacità inventiva degli italiani tant'è vero che poi abbiamo creato moltissime cose che oggi non si dicono ma anche nel settore che per noi non è tra i migliori e i più sicuri come la chimica l'industria farmaceutica e altro l'industria tessile eccetera la Russia autarchica non ha nessun significato perché la Russia ha tutto e in Siberia basta mettere un dito in terra e si è fuori qualsiasi cosa la Russia ha tutto nel senso che autarchica questo di lavorarsi in proprio le materie prime che hanno cioè senza interscambi con l'Occidente e anche diciamo la Russia qualcuno dica che poi tecnologicamente è indietro meno ma da come risulta non è proprio così perché in ambito militare la Russia ha dei sistemi di comunicazione di primissimo piano anzi che hanno dovuto invidiare altri paesi del mondo ma lì c'è stata la mano tedesca noi non vogliamo ignorare che buona parte degli scienziati tedeschi andarono in Russia ma non volontariamente evidentemente no 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 e c'è andato rapiti furono sempre impostrati avvagonate ne portarono avvagonate e portarono in Russia di scienziati e ricercatori tedeschi di Russia lo sappiamo perfettamente ma c'è anche la memoria di uno di questi che poi è tornato in Germania esattamente c'è uno studio interessante su questo fatto che esattamente importati in Russia a quelli erano geni autentici quelli erano geni autentici a proposito io vorrei a proposito ne approfitto noi che parliamo della Russia e parliamo della Germania ne voglio approfittare per dire ai nostri amici veramente di dare un'occhiata a questo libro di Francesco D'Auria e cioè Francesco Paolo D'Auria esattamente Co. Usk. Tandem questo qui veramente l'editore pagine pagine editore è un libro veramente che va letto va letto per capire lo schifo che è stato il processo di Orimberga e per capire che a proposito di Orimberga erano ben altri che avrebbero potuto comparire e non i vinti più che i vinti ben altri insomma è veramente un libro bellissimo Giorgio lo sto leggendo adesso devo dirti questa è la logica del taglione no pagine di verità storiche veramente indiscutibili nel senso che sono talmente sono defatti talmente ben descritti documentati evidenziati nella loro chiarezza su cui non si possono avere dubbi è un libro da leggere io lo voglio dire il fatto è che queste persone che hanno applicato e continuano a applicare la legge del taglione sulle persone vinte non hanno nessun diritto a parlare né di giustizia né di giustizia sociale né di equilibrio sociale né di giustizia sociale sbaglio o qualche giudice inglese quindi per le potenze alleate che hanno avuto la guerra inglese americani e non solo anche qualche russo mi pare si è espresso in modo negativo sul processo di Norimberga fu un magistrato americano sì anche il quale che è stato uno dei pubblici accusatori di Norimberga il quale tornato in America si era reso perfettamente conto delle porcate che erano avvenute e prevedendo che queste porcate avrebbero avuto a livello mondiale delle notevoli come ci sono e ci saranno ripercussioni andava in giro per gli Stati Uniti spiegando queste cose fino a che l'hanno l'hanno arrestato e l'hanno ammazzato esatto mi pare esatto senti io a conclusione di questa nostra chiacchierata prego vorrei riprendere quel libro che abbiamo letto ieri legge quel po' di pagina anche perché ci sono dei concetti talmente chiari non più di un quarto d'ora Giorgio dimmi non più di un quarto d'ora sì sì ci stiamo dei concetti talmente chiari che soltanto un fesso non potrebbe capire le implicazioni di questi concetti e cioè come si vengono formando le mentalità e come queste mentalità poi persistano anche nell'ambito di concezioni della vita e religiose apparentemente diverse allora cerchiamo di leggere un po' perché da qui deriva tutta una una serie di fonti culturali che chi sta attento capisce da dove escono fuori e a che cosa servono perché se non si leggono queste cose non si capisce niente ci riferiamo alla a quello che è stato il mondo e all'epoca in cui esisteva una cultura degli scipioni gli scipioni adesso comunque erano prima che una famiglia nobiliare tra le più importanti di Roma erano anche una una struttura societaria che coltivava alcune tradizioni prische di cui era strettamente correlata l'intera romanità è chiaro che in tre parole possiamo dire tutto però quello che c'è scritto qui potrebbe essere indicativo Sippione dunque sanzionava col silenzio ambiguo secondo gli storici razionalisti la credenza anche nel prodigio della sua origine ma questa versione aveva un carattere particolare che la distingueva e ciò Livio non aveva avvertito dalla leggenda relativa ad Alessandro Magno attenzione che qui si tratta di un intrigo tra leggenda e fatto concreto tra personalità eccezionali e leggenda ad esse correlata e questa leggenda che però esalta ma non annulla queste personalità perché queste personalità ci sono comunque non so se mi sono spiegato prima ci sono le personalità poi ci sono le leggende che le esaltano ma le personalità ci sono comunque è evidente che il mito di Scipione che ha distrutto l'Idra che ha fatto fuori il vero autentico nemico non solo storico ma anche culturale della romanità stessa cioè il regno dei commerci la potenza legata all'oro che è rappresentata appunto da Cartagine è tutta una mitologia molto importante che resta però nel nostro DNA nelle nostre coscienze anche oggi anche se evidentemente cambia magari il destinatario e il nome del nemico del nemico comune comunque proseguiamo mentre questa metteva in rilievo la paternità o di Giove Ammone o di Asclepio o di Apollo nella traduzione romana non si fanno nomi di divinità ed il serpente rappresenta il genio il daimon preesistente all'esistenza corporea e sopravvivente alla morte fisica per questo appunto il genio di Scipione ha del miracoloso in quanto esso è manifesto in forma sensibile non già in quanto esiste attento il genio è miracoloso in quanto esso è manifesto in forma sensibile non in quanto esiste attento questa distinzione profondissima ma la forma stessa assunta dal daimon per le sue manifestazioni ha qualcosa di particolare che ci interessa da vicino attento la forma del serpente infatti si ricollega alla credenza delle divinità ctoniche e dei loro simboli ed è singolare che un sifatto simbolo venisse applicato al daimon scipionico e messo in relazione con la sua nascita proprio pochi anni dopo all'incirca una quindicina se nel 218 al tempo della battaglia del Ticino Scipione contava appena i 17 anni o 18 la ricorrenza dei luddi Tarentini il compiersi del Saeculum e l'introduzione in Roma del solenne culto ufficiale di Dite e proserpina attenzione proserpina divinità degli inferi il serpente è infatti un simbolo eleusino pitagorico e come tale collegata appunto a questo culto solo di sfuggita voglio ricordare personalmente che il serpente è un simbolo di cura di terapia e di sanità tant'è vero che l'isola tiberina che oggi ha uno dei più antichi ospedali della romanità che è l'ospedale dell'isola tiberina è sempre stato simbolo di cura dedicata ad Asclepio e la vera origine di questo simbolo sta nel mito che racconta che un serpente uscito dal Tevere sia andato salito sull'isola tiberina tanto per fare un esempio poi abbiamo il serpente che rappresenta nel simbolo nel caduceo sia la medicina che la farmacia la farmacia ha un solo serpente nel caduceo la medicina ce n'ha due attorcigliati uno all'altro Adamo ed Eva comunicano con il serpente vedi strano allora qual è la tradizione precedente quella biblica o quella pitagorica visto che ovviamente quella pitagorica è molto anticedente a quella biblica allora chi ha copiato? sicuramente no la pitagorica e ultima cosa che ti voglio dire che cos'è il DNA? qual è la forma del DNA? il DNA è il serpente che ritorna sempre perché alla base della vita che poi sia espresso in termini di scienza nuova di cultura scientifica positivista di scienza chimica di chimismi di biologia contemporanea ma sempre di serpente si tratta esatto nella basilica pitagorica di Porta Maggiore a Porta Maggiore qui a Roma c'è ancora una basilica pitagorica sulla volta della navata settentrionale è raffigurato il pasto rituale che una donna offre su una patera ad un serpente attorcigliato intorno a un albero ecco qui ricorrente di nuovo il mito del serpente attorcigliato attorno a un albero che induce una donna cioè Eva a corrompersi a dare vita alla vita o quant'altro eccolo qui sempre il mito del serpente è una figurazione che si concilia con tutti i misteri che associavano nell'immagine del serpente uscito dalla terra e guardiano delle tombe l'idea della morte è quella della inesauribile fecondità ma che soprattutto si riconduce alla liturgia e l'eusina nella quale il serpente è compagno di Demetra guarda guarda che razza di roba allora tutta questa enorme mitologia che è una mitologia soprattutto figurativa cioè un imprinting una memoria cosmica che rimane all'interno del nostro DNA cioè del nostro serpente si esprime sempre con le stesse forme visive percettive è chiaro no? direi sebbene nella basilica pitagorica lo sfondo di un tirso e di un timpano sembri rievocare una contaminazione del rituale dionisiaco con quello eleusino tuttavia sappiamo che nel simbolismo pitagorico il serpente assume un particolare significato iniziatico che sarà poi esplicitamente attestato il filone di biblio alla fine del primo secolo dopo Cristo quindi abbiamo di nuovo questa figura incredibile di mediatore costituita da filone filone alessandrino detto anche filone di biblo che era vissuto nell'epoca e che funse per sua specifica volontà però personale da intermediario il quale in un certo punto ha inserito la bibbia all'interno del cristianismo nascente che però era la sommatoria di tutti questi elementi dove la bibbia non c'entrava per niente ecco perché io continuo a insistere nella ruola e nella funzione personale e personalistica di filone seguite poi probabilmente da san paolo ma filone è fondamentale capito è chiaro no? dovremmo dirlo appunto a qualcuno che di darsi un occhio gli conviene perché qui gli intrecci sono e ognuno di questi intrecci entriva analizzato bene può risalire la fonte di tutto il pensiero la interpretazione tra la cosiddetta bibbia la quale già a sua volta era stata tradotta immagini tradotta per me riscritta completamente dai 70 sempre nell'ambito alessandrino trova il suo completamento in filone il quale inserisce probabilmente non con intenzioni malvagie ma con l'intento di assecondare la partecipazione da parte della cultura ebraica a sua volta caldaica perché siamo lì all'ecumene romano imperiale va bene quindi filone l'ha messo dentro poi sono stati altri che hanno fatto dipendere il cristianesimo dall'ebraismo ma la sua intenzione io sono convinto era seria onesta visto che comandava la romanità e la romanità significava dal punto di vista culturale il neoplatonismo cioè la riscoperta la rielaborazione del pitagorismo all'interno della cultura platonica ci ha messo dentro persino ovviamente mettiamoci dentro anche questo in una visione diciamo di carattere globalizzante no di carattere ecumerico diciamo ci mettiamo dentro pure questo ci sta dentro tutto questa è l'intenzione di filone ma sta di fatto che è avvenuto il che non significa che tutta la cultura seguente cioè il cristianesimo debba dipendere tutto dall'ebraismo ma è semmai il contrario è l'ebraismo che deve dipendere eventualmente dalla cultura classica dalla classicità beh questo sì però ci sono se resta ancora tempo io continuo la rielaborazione del serpente nei misteri secondo questo autore si riallaccia al suo significato simbolico quasi figura dell'anima umana perché si muove senza l'aiuto di membra e come tale può alludere al movimento in se stesso perché è il più pneumatico degli animali e specialmente perché longevo quant'altri mai ringiovanisce invecchiando ed una volta compiuto il termine della propria vita rinasce in se stesso soprattutto eliminando la vecchia scorza che viene lasciata per ritornare un altro questa è la è la concezione della sopravvivenza dell'anima che poi ritorna incarnandosi in altre forme però il concetto di rincarnazione è un concetto di persistenza della vita sì infatti la quale è tutta animata dall'anima per cui se io ho un'anima e la mia anima è un'anima universale questa chiaramente permane e quindi si reincarna ma non è detto che una persona cos'è il mio io io Vitali Giorgio a un bel momento divento cavallo non ha esso sul significato no è chiaro allora a un bel momento tu vedi un cavallo e dici a Giorgio come stai non ha senso no poi l'altra cosa è importante qui sempre è lo stesso discorso la venerazione del serpente nei misteri quando i preti dicono mistero della fede no infatti allora a te attento qui è bello a te allora un conte quando io dico dice ma dove hai messo i soldi per dire ah mistero non lo so no ma non è quel mistero lì il mistero che viene citato dai preti in ambito religioso si riferisce ai misteri esatto e infatti lì è toccato al culto dei misteri il punto centrale non al mistero non te lo dico non lo sapevo dice ma perché questo e quello ah dice mistero della fede ma non è mistero della fede è mistero cioè è diretta discendenza della religione antica e arcaica dei misteri della misteriosofia si legata anche al culto del dio Mitra e al culto dionisiaco recuperato dalla grande genio di Nice alla fine dell'ottocento bravo insomma qui c'è data dedicazione a GoGo in questo caso in questo caso specialmente quindi chi ci ascolta e che si interessano queste cose che date che scopi dovresti essere pagato per questa informazione grazie agli avvocati no no la cultura non si paga ma infatti no lo so i pre pagano la cultura non si paga ma infatti la cultura si esiste non si paga questo è vero ma vuol dire ma vai vai finisci finisci il pensiero di filone di biblo con il richiamo agli scritti ermetici del cosiddetto tot e qui siamo già a un filone che recupera anche tot lascia trasparire l'elaborazione ellenistica dell'antica dottrina del pitagorismo crotoniate già testata da Alcmeone chi era Alcmeone? Alcmeone è stato il primo medico in assoluto antecedente a Ippocrate Alcmeone da Crotone il quale aveva codificato culturalmente ciò a cui la medicina è arrivata solo oggi lo stato di salute è uno stato di equilibrio dell'uomo con l'ambiente circostante giusto bella descrizione Alcmeone da Crotone cent'anni prima di Ippocrate qui esprime la salute fisica e attivamente psichica vuol dire che stare bene di ambiente questo vuol dire il vero stato di salute bravo perché a volte c'è un concetto sbagliato che tu stai bene si pensa sempre al fisico ma non si pensa a tutto fisico esattamente non solo e consegue che se tu mascalzone mi vai inquinando l'aria mi vai inquinando gli alimenti mi va inquinando il terreno e il territorio io non posso stare bene no assolutamente no andiamo avanti anche secondo questo il carattere delle cose eterne consiste nella capacità di riunire principio e fine e di muoversi eternamente per proprio potere come gli astri questi attributi dell'anima immortale sono richiamati in maniera abbastanza trasparente nell'esegesi pitagorico alessandrina del simbolo del serpente il filone di biblo ma guarda che funzione di intermediazione che ha avuto questo filone e qui ci sono due concetti importantissimi allora il fatto di muoversi eternamente per proprio potere quello degli astri da cui deriva la validità intrinseca dell'astrologia che che ne dicono i positivisti va bene gli astri poi sono attributi dell'anima e poi qui si parla di capacità di riunire principio e fine che cioè e anche questo è strettamente legato alla ricerca di Federico Nietzsche il quale proprio a fine ottocento recuperò il concetto di eterno ritorno di visione circolare della vita di contro alla visione unitaria finalizzata che fu propria appunto dei preti no i quali imposero e continuano a imporre la la concezione in linea retta della storia che sarebbe finalizzata alla gloria del loro Dio è chiaro? chiaro la leggenda del serpente geniale comparso dalla nascita al fianco di Scipione o poi qui c'è tutta la mitologia di Scipione il quale essendo vincitore del male si identifica anche con Ercole perché Scipione ha vinto il grande male cioè cartaggine è più un riecheggiamento culturale che non è un'imitazione dell'analoga leggenda di Alessandro Magno perché anche Alessandro Magno ha creato una leggenda e vorrei vedere uno che parte dal nulla e conquista il mondo intero vorrei vedere se non è una leggenda vivente ma un po' se è Alessandro Magno non è vero che anche Giulio Cesare voleva fare la stessa cosa? l'hanno ammazzato prima così come hanno fatto fuori l'imperatore Giuliano che stava tentando la stessa operazione è strano ma è interessante ma Giuliano stava tentando l'operazione di riportare Roma alla sua origine a sua anima esattamente l'hanno ammazzato è stato un cristiano ma non chi vuole conquistare la Persia e l'India e l'India ma allora Giuliano è stato un grande conquistatore in brevissima tempo ha portato alla alla pace romana la pax romana i germani e non è una cosa facile in quell'epoca siamo in piena decadenza militare ecco scusa ma dico Cesare dove è la fonte che ci dice che Cesare sta preparando una spedizione sulle orbe di Carlo Romano ci sono più fonti ci sono più fonti e io l'ho letta in più interpretazioni adesso non ti posso dire qual è quello di allargare di allargare l'impero romano fino all'India a questo punto esattamente e beh quella congiura lì è molto strana ebbene andiamo avanti D'Alessandro Magno dalla quale differisce nei particolari e nel significato e tale sembra esserlo specialmente se si tiene conto del fatto che nella tradizione biografica scipionica trova luogo un misticismo un'austerità e una concretezza di rapporti col divino che sono sostanzialmente diversi dal tono dionisiaco che domina nella leggenda e nelle gesta di Alessandro Magno guarda la profondità di questa analisi storiografica di un grande conoscitore della cultura classica ma specialmente a noi sembra importante la coincidenza della leggenda del serpente con la recente instaurazione o solennizzazione del culto di Dite Proserpina nel quadro delle influenze pitagorico-tarentine che siamo venuti tracciando importantissimi ruolo di Proserpina altra coincidenza poi non meno importante a nostro avviso è che la tradizione letteraria da quella contemporanea a quella meno remota da Ennio a Cicerone abbia colto nel vivo il carattere mistico di Scipione e ne abbia forse anche accentuato il valore facendone un adepto della dottrina pitagorica ora qui si chiama il riferimento non Ennio che ci interessa relativamente ma Cicerone uomo classico quant'altri mai interprete logico razionalista di tutto il pensiero precedente sintesi fondamentale della filosofia che poi avrà avrà carattere fondamentale in tutti i secoli a venire perché D è stato grande Cicerone il quale aveva anche capito il carattere mistico di Scipione e questo è importantissimo per uno che noi consideriamo semplicemente un filosofo sincretico cioè uno che aveva interesse soprattutto a mettere assieme concezioni diverse tra cui ovviamente quella estoica epicurea quella più importante per lui pitagorica e in senso lato platonica nonché ovviamente in parte anche della cultura precedente perché la sua è stata una funzione di sintesi è chiaro quindi il fatto che Cicerone sottolinei l'aspetto mistico del culto di Scipione per me è importantissimo capito che poi lui sostanzialmente era un aristotelico oltredutto va bene andiamo avanti basta per ora ricordare il Somnium Scipionis e quanto già si accennò sulla sostanziale storicità della libera ricostruzione ciceroliana ma non vorremmo passare sotto silenzio a parte il fatto già di per sé indicativo del pitagorismo enniano quello di Ennio sul quale ci soffermeremo più sotto la circostanza che Ennio stesso non in contraddizione con l'esordio pitagorico del suo poema riprende e poi in bocca si oppone un'affermazione che della dottrina pitagorica costituisce una specifica ed aperta professione bene si fas endoplagas celestum ascendere cuiquamest misoli caeli maxima porta patet cioè a me solo il cielo apre la porta più grande bene Giorgio allora per questo tempo dobbiamo finire qui perché questo discorso andrebbe continuato anzi io vorrei che io qui ho finito praticamente resterebbero altre dieci righe ma non mi interessa quello che è essenziale è stato fenomenale anzi io mi auguro che questo tuo intervento stupendo che hai fatto davvero di alto profilo possa interessare qualcuno qualche studioso di questa delicata materia e di infatti questa grandissima materia molto che delicata quando riguarda visto che si attiene anche poi sempre a saggancia sempre al motivo religioso e che potesse intervenire con te e la moralità la romanità è intrisa è intrisa di religiosità infatti che non è la religiosità orientaleggiante importata questa io voglio fare un appello a chi ci ascolta adesso a chi ci ascolterà poi dopo quando andrà in onda sul canale dell'Accademia della Libertà questo video a qualche docente universitaria a qualche studioso di poter intervenire anzi fare con te una bella discussione tu mi stai facendo appassionare da queste cose te lo dico veramente io ti ringrazio perché è bellissimo ascoltarti in e tieni sempre presente questo prego e tieni sempre presente questo ah certo quello è importantissimo res public res populi quello è un libro veramente da tenere in biblioteca anzitutto dovrebbero averlo un libro del genere perché è indicativo e attualissimo anche se si sale diciamo con un pensiero duemila anni fa ma è proiettato oggi e non dimentichiamo quello che era l'antica repubblica romana no Giorgio che era la res publica e la res populi diciamo l'antica repubblica romana quella preimperiale quindi voglio dire è di un'attualità non a caso il fascismo il fascio si rifà proprio alla prima repubblica romana la prima esattamente come simbolo come quello che significava ma se vogliamo anche il fascio etrusco no? certamente ecco anche quello diciamo aveva una sua simbologia quindi il fascismo in certo senso è un'ideologia molto antica esattamente se andiamo a vedere certi versi no? ecco e poi c'è la firma Mussolini che poi diciamo così l'ha plasmata definitivamente e l'ha proiettata in avanti in attesa che qualcuno raccolga quello che lui non ha potuto fare per tanti motivi perché non è stato più elencarli non finiamo più insomma che poi possono fare i principi sociali che ci vengono comunque da lontano io quindi dicevo spero che qualcuno intervenga con te nel modo davvero appassionato proprio per apprendere per imparare perché io credo che lo Giorgio che oggi in Italia paese della grande cultura paese della cosiddetto anche la patria del diritto e cui il diritto ormai non esiste più ecco ha bisogno a mio avviso questo paese di scoprire queste cose la consapevolezza della propria cultura della propria storia che oggi viene dimenticata e sotterrata per questo American way of life che praticamente è una merda totale come dimostra l'americanismo idiota esatto è proprio l'idiozia a sistema in sostanza e vorrei che questo video lo vedessero tanti giovani studenti quelli che vanno anche al liceo in modo liceo classico in particolare ma non solo liceo classico che possa far aprire le mente a capire il profondo pensiero italiano latino quindi ellenico che non tramonta mai che non tramonta mai nonostante questi tempi bui che stiamo passando in cui stiamo diventando qualcosa assolutamente il nulla assoluto e Renzi ciò dimostra insomma Renzi è proprio il simbolo del nulla assoluto esattamente oggi la raffigurazione del niente Renzi non andrebbe neanche a scuola gli farebbero fare che so portare le merendine per i bambini dell'asilo che hanno fame darebbero un compito così perché una testa vuota un cranio vuoto assolutamente artefatto indottrinato proprio un tipo che non sa almeno lui che dice che parla su mi pare che qualcuno gli dice cosa deve dire ogni volta che si muove e questo insomma è l'attualità la miseria attuale la definizione la definizione giusta è berlusclone sì 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 ma diciamo noi avremo tutto il dovere di ribellarci a questo schifo e quindi ribellarci come studiando studiando seriamente e soprattutto dico soprattutto mettere in pratica quella che è la cultura della meritocrazia che oggi manca c'è la meritocrazia ma anche andare verso il prossimo di dare una mano a chi non ce la fa oggi c'è la merdocrazia e purtroppo certo certo c'è la figura meritocratica che deve meritare di andare avanti per il quale però non si deve dimenticare che qualcuno che non ce la fa che lui deve dare una mano cioè nel senso per spiegarmi meglio tu meriti 100 io dico Giorgio anziché darti 100 che te li meriti te li do 80 perché vento voglio dare a qualcuno che purtroppo non ce la fa e in questo caso creeremo una società diciamo più veramente civile umana perché è quello che sa che non ce la può fare però che tu gli dai un certo tuo aiuto ecco lo incoraggi a fare cioè perché oggi quello che purtroppo in Italia manca ma non solo in Italia è proprio la volontà del fare e di non perdersi in chiaccia del cazzo con quelle quali non si fa niente cioè la volontà del fare è di saper fare soprattutto il saper fare perché oggi quello che manca in Italia è la genialità italiana che sta per essere completamente sotterrata distrutta dal nulla questo è tutto dal niente dal nulla è un po' divertito perché cosa pensa un giovane dice ma se un cretino come Renzi può diventare capo del governo io senza nessuna fatica posso arrivare chissà dove esatto sì sì è quello che poi che poi caro Giorgio non c'è tutti vogliono comandare senza saper ubbidire perché sono capace di ubbidire soprattutto perché altrimenti non posso comandare un bel tubo e non posso assumermi responsabilità sia a livello diciamo civile aziendale altro che militare perché potrebbe essere responsabile di un laboratorio di ricerca e quindi deve essere all'altezza della situazione cioè che io devo dare qualcosa a chi mi segue cioè vuol dire capisci la meritocrazia è anche questo altrimenti vuol dire che si è apposto sbagliato se è il contrario cioè trasmettere capito e trasmettere trasmettere acquisire andare avanti insieme perché altrimenti non si fa non si fa nulla con questo sistema qui che ormai è diventato chiamarlo merda forse forse è un complimento perché qui è peggio della merda che è una cosa vuota senza anima senza nulla niente niente assoluto il renzi il renzismo è proprio il simbolo di cadenza quella nave che se l'è squagliata facendo morire negati 35 ghiacciatori lo schettino è il simbolo del renzismo e viceversa che poi questi signori qui che fanno questi scempi che compiono questi gravi atti di responsabilità e di male esempio addirittura vanno nella città con una sapienza tra le lezioni cioè qui siamo veramente guarda questa è un'offesa è un'offesa assoluto certo verso chi veramente vuole fare studiare sul serio e portare il paese a ben altri livelli in cui purtroppo siamo adesso bene Giorgio con questo pensiero io ti ringrazio sperando che qualcuno abbia recepito questo mio messaggio e di fare ancora qualcosa di interessante per il prossimo anche perché caro Giorgio vuole dirti una confessione io da quanto ho conosciuto devo dirti che mi è assoluto appassionato mi ha attirato io sono qui con veste di provocatore in che senso di provocare il positivo persona come te che magari per tanto tempo sono tutti dentro i suoi studi le sue ricerche le sue esperienze che magari ha parlato a 4-5 persone e magari neanche uno è riuscito a recepire tutto ciò che tu gli hai trasmesso oggi grazie a questo strumento internet che praticamente fra un po' direi anzi sta per sostituire la televisione e anche meglio tu gente come te potrebbe alla fortuna di parlare a gente sconosciuta che non c'è stato quest'anno magari in Italia all'estero io qua per esempio ho risultato anche due contatti con l'Iran cosa bellissima in India Hong Kong Giappone questa è la vera globalizzazione che ci interessa quella della cultura quella della conoscenza e di aiutarci l'un l'altro questa è la vera globalizzazione cioè quella dei popoli che si aiutano non di un popolo che rompe il coglione agli altri capisci? io parlo dei napoletani veramente di certi napoletani e voglio dire questo è oggi quello che ci vuole io dico sono orgoglioso di solicitare tipi come te come Pantano Elia Giuseppe Orazio Pucciarelli cioè che siete un po' diciamo così l'architrave di questo diciamo così di questo sito di accadere la libertà che ospita altri filmati di questo genere e che mi auguro che veramente ne posso ospettare a tante ma non solo di noi o di te di me ma anche di altri che io dico ad altri interviste anche voi cioè perché lo ripeto ancora una volta sarò noioso ma lo voglio ripeto un'altra volta io sono convinto ma lo so anche per esperienza diretta per aver girato che nella provincia italiana ripeto la provincia italiana ci sono persone anonime che sono molto più valide assolutamente nettamente superiore di quelle facce di merda che vediamo in televisione che raccontano balde la mattina o la sera che raramente parlano di cose serie e pochissimi di loro sono serie mi riferisco soprattutto ai giornalisti oppure ai cosiddetti opinionisti di cui ne salverei se no uno o due massimo ma si può andare bene perché c'è proprio lo squallore assoluto di vedere certe cose certi discorsi certe pignoni per non parlare poi di altre cose c'è da me che saranno i capelli quindi mi auguro che internet possa contribuire a distruggere questa merda che ciavelena sicuramente e mi auguro che tipi come te Giorgio e altri come te che ci sono perché so che ci sono vengono fuori e si facciano sentire per combattere il nulla perché il nulla è quello che ci sta distruggendo purtroppo detto questo vi saluto e saluto a te Carlo Giorgio ti ringrazio e veramente da parte mia ma penso solo da parte mia l'ingraziamento non finisce mai tutto qua ciao carissimo a presto a presto ciao 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 ciao